Informazione libera, R. De Luca Il repotere dichiara che il giovane arrestato di nome Gesù, figlio di Giuseppe, è morto perché aveva le mani bucate e i piedi pure, considerato che faceva il falegname e maneggiando chiodi si procurava spesso degli incidenti sul lavoro, perché parlava in pubblico e per vizio si dissetava con l'aceto, perché perdeva al gioco e i suoi vestiti finivano divisi tra i vincenti a fine partita. I colpi riportati sopra il corpo non dipendono da flagellazioni, ma da caduta riportata mentre saliva il monte Golgotha appesantito da attrezzatura non idonea. e la ferita al petto non proviene da lancia in dotazione alla gendarmeria, ma da tentativo di suicidio, che, infine, il detenuto è deceduto perché, ostinatamente, aveva smesso di respirare, malgrado l'ambiente ben ventilato. Più morte naturale di così toccherà solo a tal Stefano Cucchi, quasi coetaneo del su menzionato. Harry De Luca